Ci troviamo qui al ristorante di Franco Matina, nella collina di Palmi, con dell'iniziativa dell'Associazione Professionale Cuochi Calabresi, dove io sono il Presidente, sono Pino Scò, con dei corsisti molto particolari e giovani, dove stiamo preparando dei corsi di cucina tematici in quattro lunedì, ci sarà sicuramente un quinto ma che ne parleremo nell'arco di qualche settimana. Sono dei corsi tematici di cucina per approfondire meglio e, come posso dire, tirare su questi giovani con le nostre ricette del territorio. Siamo partiti col primo lunedì sul tema funghi, abbiamo fatto tutta pasta di funghi dall'antipasto al primo, secondo al deserto e oggi siamo con la pasta fresca, siamo con due menù completi, dall'antipasto al deserto, addirittura abbiamo oggi un deserto di verdure, di melenzane, abbiamo un deserto alle melenzane, per andare lunedì prossimo, il 23, con un menù delle feste, un solo menù con più portate che dove avesse il menù di Natale. Il 30 abbiamo ancora due menù, un 30 di novembre con quello dello stock. I nostri chef sono stati Antonio Chirico per la prima giornata, Massimo Gencarelli da Villa Fabiano, il bester di Cosenza oggi, cioè un 16, il 23 sarà ancora Gencarelli con i suoi collaboratori e il 30 sarà Enzo Canadà.